Questo libro nasce da una ispirazione, è un libro a caratteri spirituali, sono dei piccoli epigrammi che praticamente affrontano sia il discorso spirituale che il discorso mondiale dei vari problemi e anche familiari. Il libro è dedicato a Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Giovanni Tonucci, Nunzio Apostolico e Custode della Santa Casa. Il libro si legge in pochissimo tempo, è diviso per mesi, quindi può servire come meditazione, diciamo, ma soprattutto è un libro che dà serenità, cioè una volta letto il libro dona alla persona che lo legge qualcosa che prima non aveva e diventa un supporto anche alla giornata difficile, una giornata piena di difficoltà, di problemi e dà gioia. Alla fine della lettura uno si sente rassicurato perché sono veramente molto molto piccoli gli epigrammi ma soprattutto fanno riferimento a quei problemi, a quei pensieri che noi tutti i giorni abbiamo nell'affrontare la vita. Il libro verrà presentato l'8 di novembre alle ore 17 presso la sala ipogea della Memoteca Montanari. Siete tutti invitati ad avere un po' di serenità leggendolo.